Il Governo rispetta l'indipendenza dei giudici, lo afferma in una nota Mario Perantoni, parlamentare sassarese, commentando le polemiche nate dal Decreto Legge numero 28. Ufficializzato due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento dell'esecutivo dispone anche sulla detenzione domiciliare e i permessi. Ai magistrati vengono assegnati più strumenti per esercitare, come afferma il Deputato dei Cinque Stelle, la potestà decisionale loro attribuita con la miglior cognizione possibile di tutti gli elementi valutativi del caso. La materia è spinosa perché si tratta di intervenire su soggetti responsabili di reati gravissimi o sottoposti al 41 bis. Prima di decidere, il giudice fa riferimento al Procuratore della Repubblica o del Procuratore Nazionale Antimafia. I pareri sono obbligatori, ma non vincolanti, che risce però il portavoce pentastellato alla Camera. Nessuna invasione di campo, quindi, sull'autonomia della magistratura. Al contrario, precisa ancora Perantoni, col decreto non si lasciano soli giudici in decisione di così grande responsabilità, alla gogna di tifoserie disinformate e inaccettabili processi mediatici, dotandoli invece di tutti gli strumenti per decidere nella maniera più oculata e ponderata possibile. Il deputato Sardo conclude il comunicato sottolineando che, queste le parole, chi afferma che il Governo vuole incidere sulla libertà, autonomia e indipendenza dei giudici, evidentemente ignora la Costituzione oppure è mosso da disonestà intellettuale o sterile speculazione politica.